Passiamo adesso, visto che il decreto è uno degli oggetti della discussione, mette insieme tante cose diverse, proseguiamo con l'intervento di Diziano Pesce, Presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti, UISP, che saluto e ringrazio per aver accolto. Buongiorno, onorevole Presidente, onorevoli deputate e deputati, grazie per l'invito. In considerazione del tempo a disposizione e dell'articolata memoria che ho già depositato, procederò soltanto con una sposizione sintetica, prendendo esclusivamente in esame la parte di provvedimento recante misure di diretta ricaduta sugli enti di promozione sportiva, che sono anche associazioni di promozione sociale, reti associative nazionali, ovviamente per tutte le associazioni sportive, gli enti di terzo settore affiliate. Per quanto riguarda l'articolo 1, sui principi di candidabilità dei Presidenti uscenti e candidati al quarto mandato consecutivo, non entriamo nel merito, essendo UISP un organismo che da tempo applica specifiche norme statutarie e che fissano a due il numero massimo di mandati per i Presidenti a tutti i livelli, proprio per favorire, accompagnare il necessario ricambio del quadro dirigente, con particolare attenzione a quello generazionale di genere. Però si coglie l'occasione per segnalare al legislatore l'auspicio che possa essere riavviata una discussione parlamentare profonda che possa condurre ad una nuova normativa che incida sulle procedure elettorali per garantire piena rappresentatività e democraticità, ricambi fisiologici degli organi apicali e limiti al rinnovo dei mandati. Non si può non ricordare che molti Presidenti di organismi sportivi risultano ad oggi essere in carica da molteplici mandati, alcuni addirittura da oltre 30 anni. Il nostro contributo si sofferma sull'articolo 3 del DL, esaminando il comma 2 e il comma 3 lettera B. Per quanto riguarda la disciplina fiscale e contributiva dei lavoratori sportivi autonomi, di cui al comma 2 rimandiamo integralmente alla memoria depositata. Mi soffermo sinteticamente invece sulla novellata disciplina dei rimborsi cosiddetti spesa forfettari riconosciuti ai volontari. Emerge su questo punto, secondo noi, emergono delle criticità molteplici. La disposizione contrasta decisamente con la volontà di armonizzare la disciplina delle organizzazioni sportive con quella degli enti di terzo settore, solleva numerosi dubbi interpretativi, non incide in modo significativo oltretutto in termini di semplificazione. Appare necessario ricordare come la riforma dello sport abbia portato finalmente chiarezza rispetto alla distinzione tra lavoro sportivo e volontariato, caratterizzandosi quest'ultimo come prestazione di natura gratuita, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute e documentate. Se da un lato ovviamente auspicavamo di poter ottenere semplificazioni gestionali per quelle collaborazioni marginali, comunque al di sotto dei 5.000 euro annui, si pensa soprattutto alle figure di arbitri, giudici di gara, dall'altro occorre sottolineare come tutte le norme della legislazione sportiva andrebbero sempre coordinate appieno con quelle contenute nel codice del terzo settore, su cui invece evidenziamo il rischio di pericolosi disallineamenti e arretramenti. Reintrodurre il rimborso spese forfettari per i volontari delle organizzazioni sportive nella formulazione proposta significa infatti creare un regime differenziato tra volontari delle organizzazioni sportive e volontari delle organizzazioni sportive qualificati anche come enti di terzo settore, esporre i percettori e le organizzazioni di un rischio alto di contestazione di contenzioso per un utilizzo elusivo della norma, privare le organizzazioni sportive della possibilità di optare per il rimborso in regime di autocertificazione e oltretutto abbiamo anche alcune situazioni di criticità, pensiamo al caso dei sodalizi che hanno pluriaffigliazione la comunicazione di rimborsi forfettari deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni anche se il rimborso non è ancora stato erogato ciò significa che l'organizzazione avrà l'onere di valutare il rimborso secondo o criterio di competenza ai fini della comunicazione o secondo il criterio di cassa ai fini dell'incidenza della base imponibile insomma si genererebbe grande confusione la norma poi attribuisce ai rimborsi forfettari una natura ibrida quindi dal punto di vista anche della fiscalità a versare le eventuali ritenute dovrà essere in ogni caso il committente o anche l'organizzazione presso cui svolge attività di volontariato per quanto detto non si ritiene che la disposizione apporti poi effettive semplificazioni la memoria contiene una tabella analitica che in 12 punti confronta l'istituto del rimborso forfettario con quello della disciplina della COCOCO e si evidenzia questo per concludere si auspica o l'abrogazione dell'articolo 3,3 lettera B e così il ripristino della previgente formulazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 36 un provvedimento che chiarisca che anche i COCOCO con compenso non superiore ai 5.000 euro possano accumulare detto reddito con la compensione quota 100 come i collaboratori autonomi occasionali e la piena operatività del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in alternativa e chiudo si ritiene in ogni caso necessario per rispondere proprio alle esigenze generali inerenti al volontariato sportivo il ripristino della previgente formulazione dell'articolo 29 reintroducendo la possibilità di optare per il rimborso in regime di autocertificazione rimodulare la definizione dell'istituto per risolvere i molteplici dubbi interpretativi indicati stabilendo inequivocabilmente che gli organismi e le organizzazioni sportive che sono anche enti di terzo settore sostanzialmente gli enti di promozione sportiva che appunto come ho detto sono qualificati tutti anche come associazioni di promozione sociale possano applicare la novellata disciplina dei rimborsi spesa forfettari e poi un provvedimento di prassi che comunque chiarisca nel suo complesso la figura del volontario sportivo. Grazie Grazie, passiamo adesso invece E mi riferisco alla domanda esplicita cioè se voi come organizzazione, come ente di promozione sportiva avete avuto situazioni di criticità rispetto a pensionati con quota 100 che hanno un contratto di collaborazione co-co-co anche sotto ai 5.000 euro c'è un'interrogazione a proposito sto raccogliendo casistica mi è fondamentale ne approfitto anche per scusarmi perché non posso diciamo così esimermi dal sottolineare come ci siano 16 audizioni in tre ore e quindi ovviamente un tempo limitatissimo a disposizione nessun rappresentante dei commissari della maggioranza e questo ovviamente mi rammarica parecchio però la domanda è sulla avete dei casi in cui è successa questa cosa? Grazie Grazie Onorevole purtroppo la risposta è affermativa ci sono sul territorio casi anche di percipienti ben al di sotto dei 5.000 euro a un'ora grazie 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 Grazie